Akiwagi, so che ultimamente sei un pochino solo Eh, come te lo sapevo, stai pure piangendo Quindi ho deciso di trovarti degli amichetti E di amichetti? Ce ne sono tantissimi Oh, Akiwagi Squid Game, Kissy Missy, Killy Willy, Tizio Dorato Con quattro occhi, zebra, diavolo, elmo Ma stiamo scherzando E lascia un like e iscriviti se anche tu nel capitolo 2 Akiwagi Sus Siamo su Roblox È la prima volta che lo porto sul canale Perché ragazzi, quando ho scoperto questa modalità Dove potevo diventare tantissimi Akiwagi Ho detto no, qui devo giocarci per forza E mi raccomando, fatemi sapere se volete altri video su questo gioco molto, molto strano Mi sono fatto anche il mio personaggio E abbiamo anche un amichetto Il suo nome è Root Vi starete sicuramente chiedendo perché si chiama Root Beh, perché in inglese è top, si dice rat Però è divertente di dire Root Sapete no, è il tipo Root Vabbè, lasciamo stare Ma salve Akiwagi Zebroso Sono sicuro che tu sicuramente sei andato alla ricerca di qualcuno E aspetta un attimo, ma che cosa succede se clicco uno? Oddio! Il gran pack! Ma mi ha finito Ragazzi aiuto, mi si è aperto il gran... Ehm... Ma questo qui c'è una macchina Allora sono sicuro che tu mi guiderai verso la strada giusta Guidami verso qualche Akiwagi Prima ci ho giocato un pochino e ne ho sbloccati un paio Dopo se volete ve li faccio vedere E quello lì è un Akiwagi Hacker! Oddio! Io ti sto seguendo Però togliamo via sto gran pack che è enorme e mi dà un soltanto fastidio Dio, ma che cavolo è sta roba qui sotto? Ma questo qui non c'è veramente nella mappa di Poppy Playtime, ma mi sbaglio Salve signorina! Scriviamo Hello! Hello! Salve! Salve! Mamma mia che nuotatrice! Ti chiamavano Federica Pellegrinas Non Pellegrini perché ovviamente... Aspetta un attimo Ma che cosa c'è qui sotto l'acqua? Oddio! Ma c'è una ghiwagi rosa! Andiamo su Morphs Eccolo! Axelotaki! Ma che cavolo è sta roba? Non so se sinceramente mi possa far paura a qualcuno però con sto coso Vabbè, lasciamo perdere Akiwagi che ne pensi? Questo potrebbe essere un tuo nuovo amico? Ha detto di no! Ha detto di no ragazzi! A te? E vabbè! E non gli piace! Non gli piace! Per far spaventare qualcuno innanzitutto... Calmo! Calmino! Calmino! Ehi, 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 ehi! Ho capito che non sei nel tuo abito, te non sei sotto l'acqua Però, oddio! Pensate a uno che, tipo, arriva qui e io gli jumpscherò addosso E... Quella legge a Sonic Hagi! Voglio subito scoprire come cavolo ha fatto a trovare Sonic Hagi! Comunque io in teoria ne ho altri Posso diventare anche Akiwagi unicorno! E allora, tu sei il fortunato Esprimi un desiderio, Bobblumen! Vai! Devi deciderlo! Esprimi tutti i desideri che vuoi, tizio Hmm... Ragazzi, forse ho trovato una persona sbagliata Questo qui! Questo qui è un po' stupidotto! Vabbè, vabbè, io ti abbandono Senti, mi sei antipatico! Basta! A fuoco! A fuoco! Akiwagi è infuocato! Oddio! Ti inseguo tutto! Vieni qua! Vieni qua! Oddio! Ma dove sono finito? Come... Perché ho sbloccato mal di Anki? Aspetta un attimo Ma qui c'è Akiwagi con le ragni a te Eh, aspetta... No, 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 ho sbloccato anche questo! Ne ho sbloccati due in uno senza nemmeno accorgermene! Eccolo! Eccolo! No! Eh, vabbè, eh, vabbè, no ragazzi, è bellissimo È bellissimo Dimmi che se clicco uno, alzi il righello No! Ha sbagliato mano! Sono Baldi Anki Vediamo un pochino se la gente risponde alle domande Vediamo, ho fatto 2 più 2, dai! Kainass00 Sapete rispondermi? Rispondetemi Quanto fa 2 più 2? Dai, sono Baldi Anki Il professore più famoso del mondo Devi assolutamente rispondermi Se non mi rispondi, ti giuro Ti inseguo fino alla fine dei tuoi giorni Almeno tu, Zebra, dimmi qualcosa! Qualcuno che mi risponde, aiuto! Zitti tutti Voglio fare uno scherzo a questo Ankiwagi con 3 teste Che poi, chi si chiudete di essere? Tu sei a 3 teste Ma io sono Spider Anki! Tu sei a 3 teste Ma io ho 4 occhi Dove sei? Ehi, ecco ti qua! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Lo vedo un po' impassibile Non capisco Ehi! Akiwagi, che cosa ne pensi di questo tizio con 4.000 braccia e 100.000 occhi? Si è spaventato! E' molto spaventato! Ok, lasciamo perdere! Stavo scherzando, stavo scherzando! Comunque, fatemi sapere se il mio personaggio mi piace Ciao, Root! Come va? Root non risponde! E' ancora un pochino timido, ragazzi! Magari se facciamo altri video su Roblox Magari un pochino si sblocca e impara a parlare Perché sapete, è appena nato Quindi non difficilmente inizia a parlare quando vuole Il mio obiettivo è assolutamente quello di sbloccare O Freddiaggy, perché assolutamente è bellissimo O Godzilla Aggy O addirittura Aggy Wagi Squid Game Oh, Sus, Aggy! Tu sei l'impostore! Devo subito scappare via! Oh no! Aiuto! Aiuto! Mi nascondo! Mi nascondo! Ah, ecco come ho fatto a sbloccare Baldiaggy Con questo qui c'è un riquetto in mano Ehi, Sus, perché continuate a seguirmi tutti e due? Non è che... Noi due e l'impostore volete? No, eh, io mi nascondo Me ne vado via Me ne vado via Me ne vado via Che cosa succede se vado via Oh! Oh mio Dio! Eh, devo fare parkour? Ok Allora, concentrazione Wow! 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 Oddio! Ragazzi, ragazzi Cappello di Super Mario! Con questo diventiamo sicuramente Super Mario O almeno Super Mario! Ci siamo! Ci siamo! Sì! Me l'ha sbloccato Ragazzi Mi hanno scammato Mi hanno scammato Dov'è? Let's go! Era sì che l'ho sbloccato It's me! Aghiwaghi! Let's go! Where are you? Oddio! Mamma mia! Eh, ah, ah, ah! Mamma mia! Let's go! Let's go da porta! Oh! Corritorio segreto! Mamma mia! Luigi! Posso sbloccare anche Luigi in qualche modo? Qua posso arrapicarmi? Allora, un attimo ragazzi, un attimo Quello nero lì giù È un Aghiwaghi! Oppure È il coso che me lo fa sbloccare Sono morto Vabbè, cambiamo strada Non mi interessa Andiamo verso di qua It's me! Super Ho sbloccato Freddy Aghi! Com'è possibile? No, 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 subito Bellissimo! Bellissimo! Ma tu sei... Mamma mia, come è brutto però Bellissimo fino a un certo punto Ma tu sei Glamrock Freddy? Perché Non ho capito Perché sai Se sei Glamrock Freddy Dimmi dove hai messo Gregory Perché La tua pancia Secondo me È proprio ripiena di Gregory Sono abbastanza sicuro Sicuramente Potrebbe nascondersi qualcosa Qui da qualche parte Ne sono sicuro Ne sono proprio certo Cioè, raga Mi volete dire che In mezzo a tutte queste scatole Non c'è nemmeno un Aghiwaghi Eh, oddio! Eccolo! Eccolo! Kissi Missi! Sì! Che poi si chiama Evil Penny Ma che cavolo è Evil Penny? Io conosco soltanto Kissi Missi Scusami Eccolo! Evil Penny! Vabbè, è Kissi Missi In poche parole Entriamo all'inter... Che sta succedendo? Oddio! Evil! Che cosa sta... Aiuto! Aiuto! Alzati! Alzati! Ok Siamo arrivati qui! Nella fabbrica! Dietro si nasconde qualcosa? C'è qualche segreto misterioso Qua fosse... Sono entrato all'interno della macchina Mi sa che non dovevo farlo Vabbè, usciamo via Usciamo via Assolutamente Non è un mio... Non è un mio problema Ma tu come ci sei arrivato lì sopra? Con quelli ali Hai proprio spiccato il volo Cioè, è incredibile... Aspetta Provo a fare un attimo di parkour Sto arrivando! Ai 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 Allora, siamo all'interno di un condotto Devo per forza diventare spider aggy Così... Oh! Oddio! No, no Devo subito trovare sonic ragazzi Io devo assolutamente trovare dove si sblocca sonic aggy Per forza ragazzi Per forza Cioè, è il mio sogno proibito trovare sonic aggy Per forza Ehi 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 Aspetta un attimo Questo cestino Ha una forma familiare O mi sbaglio? Andiamo un attimino sopra Sii Susaghi Posso la range? Si, godo Gordo Che bella! Scappate da Susaghi Sono io l'impostore E con Susaghi direi che per oggi il video possa finire qua ragazzi Abbiamo sbloccato un sacco di aggy waggy Un sacchissimo ma non tutti Quindi se questo video vi piace Potremmo fare un altro dove continuiamo a sbloccare altri E non vedo l'ora Ci vediamo in un prossimo video E ciao ragazzi Bye Ah Ghiwaki comunque non mi hai fatto più sapere Chi vuoi come amico Come nessuno